Se state riscontrando un problema riguardo alla scheda video riguardo ai vostri driver per Call of Duty quindi in questo caso state avviando il gioco vi crash esce un errore riguardo ai driver della scheda video oppure niente di aggiornato oppure ai driver obsoleti. Quindi in questo caso alcuni riescono a risolvere il loro problema su Call of Duty scaricando dei vecchi aggiornamenti sulla scheda video. Ovviamente c'è chi si è trovato benissimo all'inizio con i vecchi driver della scheda video poi all'improvviso ha scaricato i nuovi e non è andato più. Quindi in questo caso puoi semplicemente riscaricare dei vecchi driver sulla tua scheda grafica Nvidia per AMD è la stessa cosa quindi devi andare a cercare Old Drivers quindi puoi direttamente cercare Old Drivers AMD tutto qua. Quindi vai a scegliere così la tua scheda grafica Nvidia cerchi così i vecchi driver della tua scheda video vedi più versioni Ed eccole qua In questo caso se non ti funziona puoi direttamente scaricare i nuovi driver come per esempio su Nvidia App quindi in questo caso una volta scaricato la versione beta di Nvidia App quindi vai su Nvidia vai su driver driver game ready e aggiorni aggiorni finché non trovi qualche aggiornamento da fare l'ultimo aggiornamento che ho fatto è stato del 20 agosto quindi 20 agosto e basta Un altro driver che vi consiglio di scaricare e installare sia per tutte le schede video è questo qua di WebInstaller DirectX quindi funziona con Nvidia però ti consiglio di scaricarlo e installarlo direttamente sul tuo sistema operativo quindi vai a scaricare così questo driver clicchi sopra accetto vado avanti e installo così DirectX un componente che mi serve sul computer e faccio fine una volta fatto c'è un altro link che ti ho lasciato in descrizione è di Microsoft Visual C++ Visual Studio 2015 fino al 2022 e vai a scaricare uno di questi due per 86 o per 64 bit in questo caso avendo sistema operativo 64 bit scarico questo se non ti funziona prova a scaricare per 86 se no installali tutti e due una volta fatto riavvia il tuo sistema operativo quindi scarichiamo così per 64 clicco sopra modifica installazione io devo ripristinarlo perché lo tengo già installato quindi ripristino e riavvio il computer tu devi solamente installarlo quindi come ho detto prova anche a scaricare qualche vecchia versione di Nvidia e prova ad avviare il gioco vecchi driver della tua scheda video oppure puoi semplicemente andare su tre puntini fare gestisci file verifica e ripristina ovviamente questo è su Xbox Game Pass su Steam invece è la stessa cosa basta andare sulla rotella e poi fai verifica l'integrità dei file per riparare il gioco se no puoi semplicemente disinstallare e reinstallare il gioco per altri problemi ancora c'è la playlist completa con tutti gli errori crash, directx, problemi di lag problemi di fps problemi di black screen quindi tutti gli errori stanno in quella playlist che ti ho lasciato in alto a destra nelle schede puoi dare un'occhiata a quella playlist quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao